Ciao ragazzi e ragazze, questo video dedicato a tutti quegli studenti, magari anche neolaureati, con cui io parlo e da cui mi sento dire tante volte questa frase, eh sì, perché evidentemente ho sbagliato facoltà. Quando io cerco di investigare, la maggior parte delle volte capisco che questa frase, quest'idea, non è un'idea che loro hanno riprovato sul mercato del lavoro o grazie ad alcuni test che hanno fatto sul mercato del lavoro, ma più che altro che gli è stata inculcata o dalla famiglia o da qualcuno attorno a loro, magari a volte dai loro stessi pari. Ecco, la cosa che io vorrei dire a queste persone e voglio usare lo strumento video per farlo, per rompere le scuse come cerco di fare sempre, è questa. Se qualcuno cerca di dirvelo dovete impegnarvi il doppio per far sì che la cosa, per non dargli ragione, far sì che la cosa non sia vera. Perché? Perché in realtà siete ancora giovani, avete ancora tempo per formarvi parecchio, quindi anche se avete sbagliato facoltà non è una tragedia greca e soprattutto perché in ogni caso non siete, per quanto hanno cercato di farvelo credere, solo quello che avete studiato. Anzi, l'esperienza che farete, che potete fare, conta la vostra voglia di mettervi in gioco, conta la voglia che continuate ad avere di imparare. Quindi non fatevi irretire da certe scuse, usatele come benzina per dimostrare che avete ancora tantissimo da dare, siete ancora solo all'inizio. Stop whining!